Nonna Pig, mamma Pig e papà Pig aspettano il nonno per cenare A quanto pare la favola della buonanotte non funziona poi tanto Io sono il massimo esperto di favole della buonanotte Li farò addormentare in un batter d'occhio Un drago terrificante! Peppa, George, a letto immediatamente Ma nonno Pig non ha ancora finito di raccontare la sua favola, papà? Ci penso io a trovare un finale Un minuto e sono giù da voi Va bene, c'era un puledro, una pianta di fagioli, un castello, una bella principessa Un brode cavaliere, una cuoca, un mago e un terrificante drago E un simpatico re molto affamato E così fecero una bella cena e vissero tutti felici e contenti Fine della storia E poi fecero una grande festa E invitarono tutti i loro amici Scusate, credo che Succi sia bisogno di me Ah, papà P Stanno proprio per addormentarsi Grazie Ma adesso ci penso io Ma prima devi finire di raccontarci la favola Va bene, ma facciamo in fretta Dove eravate arrivati? C'era una volta In un'epoca lontana Tanto, tanto tempo fa Mamma Pig è nella stanza dei piccoli da tanto tempo Mi sembra di sentir russare sopra Meno male Peppa e George finalmente dormono E vissero tutti felici e contenti fine della favola Buonanotte, mammina Peppa, George Silenzio, la mamma si è addormentata Credo proprio che la principessa Peppa sia la più brava di tutti a raccontare le favole Ma certo, la migliore Ciao, ciao, Susy Torno a prenderti Aspetta, Susy Più tardi, piccola mia George, Richard È arrivata l'infermiera Susy E l'infermiera Susy ordina Questa non è la terra dei dinosauri Questo d'ora in poi è un ospedale E un ospedale deve essere sempre pulito e ordinato La stanza adesso non è più la terra dei dinosauri È diventata un ospedale Io sono la dottoressa caporeparto Questo dinosauro sembra malato Sono d'accordo, dottoressa Ha un aspetto terribile Il suo colore è verde pallido Lo devo mettere subito a letto E anche questo dinosauro deve essere malato Perché ha un colore viola pallido È vero, dottoressa Deve andare subito a letto anche lui Dinosauro! Dovete fare silenzio Siete in un ospedale Tutu! La stanza non è più un ospedale Adesso è una stazione ferroviaria No, no Mi dispiace Non c'è nessun treno Nel Paese delle Fate Oh! Adesso la stanza è il Paese delle Fate Solo le cose belle sono permesse Nel Paese delle Fate Per quale motivo piangete voi due? George e Richard vogliono giocare a dinosauri e treni Uffa! E noi invece vogliamo giocare all'ospedale E al Paese delle Fate Vedo che fuori c'è il sole E non sta piovendo più Allora? Allora Forse potreste andare tutti fuori a giocare Ma a loro piacciono soltanto i giochi da maschi piccoli E a noi piacciono i giochi da femmine grandi Invece Ma di solito dopo che è piovuto Che cosa si forma in giardino? Intanto fango Pozzanghele! E a che cosa servono le pozzanghele di fango? Posso apparci dentro, su e giù Stiamo portando Goldie dalla dottoressa Hamster Oh, mi dispiace Non ti senti tanto bene? Sei malata, Goldie? Non le può rispondere È un pesce Oh, già Che sciocco sono Magari sentire un po' di note della tuba Potrebbe rallegrarla Che buffo suono! Bravo! È vero! Sto andando nel negozio di strumenti musicali Per farla riparare La signora Pecora La signora Gatto Il signor Zebra E Madame Gazella Salgono sull'autobus Buongiorno! Quattro biglietti per il supermercato, per favore Buongiorno, Madame Gazella Stiamo portando questo pesciolino dal veterinario Oh, si sente poco bene, poverino Eh sì, ma le sta sorridendo Girano le ruote della corriera Girano, girano domani a sera Girano le ruote della corriera Fra poco arriverò Supermercato! Ciao! Strumenti musicali? Arrivederci! Capolinea il medico veterinario Il veterinario aiuta gli animali malati a guarire Oh, è questo il pesciolino triste che non vuole mangiare? Sì, guardi anche lei Goldie mangia tutto Strano, a casa rifiutava il cibo Forse Goldie non mangiava a casa perché era annoiata Il viaggio interessante l'ha messa di buon umore, evidentemente Il vostro pesciolino scoppia di salute ed è molto felice È una delizia Grazie, dottore Samster Arrivederci Mamma Pig, Peppa e George tornano a casa in autobus Anche il signor Toro torna a casa con la tuba aggiustata La mia tuba è come nuova Ascolta Forse io ho tenuto questo libro un po' troppo a lungo Non si preoccupi, papà Pig Non sarà poi così grave Perbacco, papà Pig ha tenuto questo libro per ben dieci anni Papà distrattone Scusi, signora Coniglio Non ha importanza Adesso puoi scegliere un altro libro Signora Coniglio George e io possiamo prendere in prestito un libro, per favore? Certo Il settore per i bambini è a vostra disposizione Guarda, il mondo delle fate, tutti i fiori, come fare i vestitini Ciao, Peppa Pig Ciao, ciao, Danny Io ho preso in prestito un libro sul gioco del calcio Buongiorno, Peppa Buongiorno, Susi Io ho preso in prestito un libro sulle infermiere George ha scelto un libro sui dinosauri Dinosauri! Guardate cosa ho trovato Nuove avventure nel meraviglioso mondo del calcestruzzo Uno dei libri della scimmietta rossa No, basta! Col libro della scimmietta rossa è noioso Ma è una storia completamente diversa Forse è più divertente Io scommetto di no, invece C'era una volta una piccola scimmia rossa Che fa il bagno, si lava i denti e poi va a dormire No, che sale sul razzo spaziale e va sulla luna Fa un picnic con un dinosauro Nuota in fondo al mare e si arrampica su un'altissima montagna Che giornata faticosa! Fine! Bellissima! Leggila di nuovo! Possiamo prenderlo in prestito e leggerlo a casa, Peppa Ma veramente, io avevo già scelto questo libro Oppure quest'altro Puoi portare a casa tre libri se desideri, Peppa Evviva! Però devi ricordarti di restituirli con puntualità Sì, signora Coniglio E anche lei deve ricordarsi di restituire i libri con puntualità Non ti preoccupare, Peppa Sono esperto nel leggere le cartine Oh, questo sì che è strano Ci siamo persi? Eh, proprio così Arriva Nonno Cane con il nipotino Danny Ciao, Peppa! Oh, ciao, Danny! Ci siamo persi! Persi? Vi si è rotto il navigatore? Come il navigatore? Certo! Quello che lei sta guidando è un camper 320 È un modello col navigatore di serie Benvenuti nella macchina del futuro Ah! Ecco a che cosa serviva quel pulsante Dove volete andare oggi? Ma, papino, il camper sta parlando! Ingegnoso, vero? La voce del computer aiuta a trovare la strada Ma il computer come fa a sapere dove vogliamo andare? Le lo indichi tu Eh, buongiorno, signora voce del camper Buongiorno Noi stiamo andando in vacanza Ci può dire la strada? Procedere sempre dritti sulla strada che state percorrendo Grazie per l'aiuto, Nonno Cane! Non c'è di che! Divertitevi in vacanza! C'è, andiamo in vacanza! Pericolo, pericolo, il livello dell'olio è basso Cos'è l'olio? L'olio aiuta il motore a girare senza difficoltà E se il livello è basso vuol dire che sta per finire? No, questi allarmi ti avvisano sempre con largo anticipo L'olio è terminato Oh, cielo! Per fortuna ho una lattina di olio di riserva Sei stato previdente, papà Adesso basterà mettere dell'olio all'interno del motore E poi vedrai... Oh! Che succede? Qui dentro non c'è niente Il motore è... è sparito Arriva mamma pecora con la figlia Susi Ciao, ciao, Susi! Papà neanche saprà che si era sporcata di fango Cerchiamo qualcos'altro da mettere in lavatrice Oh! Anche il mio vestito si è un po' sporcato Mamma Pig e George hanno trovato altre cose da lavare Molto bravo, George! Mettiamo i panni in lavatrice E poi... l'accendiamo La lavatrice si riempie di acqua calda saponata Splash! 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 La lavatrice fa tremare tutta la cucina Oh! Peppa! Dov'è il tuo vestito? È lì dentro! Si sta lavando! Cosa? Oh no! Guarda, mammina! Ora il mio vestito rosso è tutto lindo e pulito! È vero, Peppa! Ma guarda cosa ha fatto a tutto il resto! Oh cielo! Il vestito rosso di Peppa ha fatto diventare rosa il bucato bianco Il rosa non è un colore che si adatta molto ad una maglietta da calcio Papà Pig è tornato dal lavoro Buon pomeriggio a tutti! Ciao, papino! Papà Pig, abbiamo un piccolo problema Dimelo dopo, mamma Pig Adesso mi devo preparare per la partita Dov'è la mia maglietta da calcio? Eccola! Non essere sciocchina, Peppa! Questo è uno dei vestiti della mamma È rosa! Non è così, papà! Questa è la tua maglietta da calcio Si era un po' sporcata di fango Così l'abbiamo lavata Ma purtroppo gli altri panni hanno stinto Scusa tanto, papino! Ma non posso indossare una maglietta da calcio rosa! E perché no, papà? Il rosa è un colore molto carino, sai? Io ho tanta tosse! Il dottor Orso Bruno è venuto qui a scuola e ci ha visitato Ci ha dato una medicina cattivissima! Madame Gazella, ora può cantare quella canzone? Naturalmente, Peppa! La bambola di polli è mala Oh, no! Tutti gli adulti hanno preso la tosse da Pedro Sono il dottor Orso Bruno, chi parla? Io sono Peppa Pig Tutti i grandi si sono ammalati Non ti preoccupare Sto arrivando, Peppa! Buongiorno a tutti Abbiamo preso la tosse da Pedro Molto bene Mettetevi in fila E aprite la bocca So di crema pasticcera e calzini sporchi Grazie per essere venuto qui a curarci, dottor Orso Bruno Chi è che viene a curarla quando è ammalato lei? Nessuno viene a curarmi Io non mi ammalo mai Oh, no! Il dottor Orso Bruno ha preso la tosse da Pedro Non vi preoccupate! Arrivederci! Arrivederci! Povero dottor Orso Bruno È malato! E nessuno va a casa sua a curarlo E ora chi può essere? Salve! Siamo venuti a curarla, dottore Qui c'è della frutta Ecco qui qualche cuscino E qui c'è la sua medicina Apra! Sa di yogurt? Alla marmellata, gusto crema pasticcera e calzini Ora le cantiamo una canzone Guardate, sta arrivando il signor Patato Il signor Patato! Oh, è soltanto Peppa Buongiorno a tutti Buongiorno Peppa Susi pensava che tu fossi il signor Patato Ma io non assomiglio per niente al signor Patato No, tu sei molto più grossa Il signor Patato è un miliardo di volte più grosso di me No, non è vero Perché lui è una patata E le patate sono grosse così Eccolo là, il signor Patato Arriva il signor Patato Per favore, un bel urrà per il vostro caro, vecchio amico, signor Patato Hurra! Però è una patata davvero enorme Dichiaro ufficialmente aperto il centro sportivo Bene, ragazzi Dobbiamo tutti fare esercizio fisico E mangiare tanta tanta frutta e verdura Quale frutta e verdura dovremmo mangiare, signor Patato? Mele, arance, carote, pomodori rossi E le patate no? Come mai non sei piccolo come tutte le patate del mondo? Perché lui non è affatto una patata come tutte le altre Non vedi, ha persino le gambe Sì, le patate normali non hanno né braccia né gambe È una super patata lui Noi guardiamo il suo programma in tv tutte le mattine Molto bravi e ricordatevi di mandarmi i vostri disegni Va bene! Peppa e i suoi amici sono all'asilo Attenzione! Oggi faremo un bellissimo disegno da mandare al signor Patato Hurra! Io disegno un ananas grosso grosso Io invece disegno una carota Molto bene! E tu che cosa disegni, Emily? Un pisellino Magnifico! E Pedro? Una super patata, maestra! Che bravo! E il nostro Giorgio ha disegnato uno splendido pomodoro Siamo in campagna Penso che potremmo trascorrere la giornata osservando la natura Ottima idea, mamma Pig! Guardiamoci un bel programma sulla natura Una delle meraviglie della natura Gli uccelli Com'è affascinante! Zitto! Vuoi stare zitto, uccellino? Non riusciamo a sentire la televisione No, papà Pig È una cosa assolutamente sbagliata Non si può campeggiare e guardare la televisione Questo si può fare a casa Eh... Sì, hai ragione tu, mamma Pig Ci sono tanti posti divertenti da visitare Questo è il mondo degli alberi Cos'è il mondo degli alberi? Il mondo degli alberi è una grande foresta piena di alberi Non mi sembra tanto divertente Oppure c'è la città delle patate Che cos'è la città delle patate? Si fa un giro per i campi di patate Che termina con un assaggino di patate Sembra molto interessante O c'è il paese delle anatre Cos'è il paese delle anatre? È un fiume immenso tutto pieno di anatre Paese delle anatre! Andiamo al paese delle anatre! Peppa e George adorano le anatre Come si fa ad andare al paese delle anatre? Sarà il camper a guidarci Dove volete andare oggi? Paese delle anatre, per favore! Procedere sempre dritto lungo la strada Andiamo dalle anatre con un camper giallo! Benvenuti nel paese delle anatre! Buongiorno! Quanti biglietti, prego? Due adulti e due piccolini Divertitevi con le anatre! Ma dove sono le anatre? Forse sono andate in vacanza Forza! Cominciamo a preparare il picnic Le anatre si fanno sempre vedere Quando... Quando noi facciamo i picnic Peppa e George adorano i picnic Guardate! Arrivano le anatre! Signore e signori Vi presento Ted di Cuorredoro Ciao, ciao! È il nostro ospite speciale E questa sera dovrete fargli spazio Quello è il dinosauro di George Ringhia molto ma non sa dire una parola Facciamo una foto per l'album di Ted di Cuorredoro? Ragazzi, sorrisone! Sorrisone! Papà, vorrei tanto che Ted di Cuorredoro Domani avesse una giornata Tanto, tanto emozionante Perché non andiamo tutti al Polo Nord? E se invece andassimo al supermercato? Sì! Non credo proprio che Ted di Cuorredoro Sia mai andato a fare la spesa finora È mattina Peppa va al supermercato con Ted di Cuorredoro Questo negozio vende tante cose buone Ci sono arance, mele, frutta esotica Bello! È un posto molto interessante Questa è la cassa Dove si paga tutto quello che si vuole acquistare Giorgio vuole scattare una foto Ho capito, Giorgio Sorrisone! Sorrisone! Grazie, Giorgio Penso che possano bastare Ma dov'è finito Ted di Cuorredoro? Ted di Cuorredoro è scomparso Papà, hai perso Ted di la mascotte della nostra scuola Non ti preoccupare, Peppa Sono sicuro che lo ritroveremo Buongiorno È andato tutto bene? No, per niente Papà ha perso Ted di Oh no Ma abbiamo un ottimo piano per ritrovarlo E come facciamo a ritrovarlo, papino? Come facciamo? Prima di tutto stampiamo le fotografie che gli abbiamo scattato Mamma Pig intanto mette a posto la spesa Temo di averlo perso Oh, Pedro Distrattone Cerca di stare più attento Eccolo il tuo biglietto Cerca di non perderlo un'altra volta Ehi, sta arrivando il treno La signora Coniglio è la macchinista Conduce il treno Tutti a bordo Urraa! Ciu-ciu-tutu Ciu-ciu-tutu Il treno va su e giù Corre-va Corre-va E presto arriverà Attenzione! Queste sono le vostre schede Gli alunni devono segnare sulla scheda Tutto quello che vedono Una barca Un segnale ferroviario E una galleria Io vedo tanti alberi Ma quelli ci sono sulla scheda? Ehm, no Io vedo le nuvole E le nuvole ci sono sulla scheda? No C'è Nonno Cane in barca! Sei là, ragazzi! Buona giornata, Nonno Cane! Ma Nonno Cane c'è sulla scheda? Ma che dici, Peppa? Nonno Cane non c'è sulla scheda Non lo vedo È al timone di una barca, però E la barca sì che c'è sulla scheda! Ura! Tutti spuntano la barca sulla scheda Biglietti, per favore! Il signor coniglio controlla i biglietti ai passeggeri Ehm, penso di aver perso il mio biglietto Oh, ma che sfortuna! Miau Il tuo biglietto è qui sul sedile, Pedro Ti ci hai riseduto sopra Mi raccomando, non perderlo di nuovo, Pedro Pony! Il treno sale lentamente sulla collina Il treno scende rapidamente dalla collina Signora maestra, mi scusi, non mi sento bene Posso sedermi davanti, per favore? Ma certo, Pedro! Puoi sistemarti vicino al macchinista Signora pecora, lei lavora o gioca invece? Oggi dovrò lavorare moltissimo, Peppa Devo andare in palestra E che cosa si fa in palestra? Si corre, si saltella, si fanno flessioni Ma mamma, questo non è lavorare Questo è giocare! Peppa e Susi sono arrivati all'asilo Ciao a tutti! Ciao, ciao Peppa! Ciao, ciao Susi! Silenzio! Attenzione! Oggi giocheremo al negozio! Chi di voi vuole fare il venditore? Io! Peppa e Susi saranno i venditori Mentre tutti gli altri potranno fare i clienti Peppa e Susi gestiranno un finto negozio Peppa, che cosa dobbiamo fare? Io starò alla cassa e tu Susi Ti potresti occupare degli scaffali Va bene! Danny Cane è il primo cliente Buongiorno, come va venditore? Buongiorno signor Cane Posso avere un po' di biscotti per favore? Susi, ci sono rimasti ancora dei biscotti? No! Però abbiamo un telefono giocattolo E quanto costa questo telefono? È molto bello, costa 100 euro signor Cane Molte grazie! Il prossimo prego! Buongiorno venditore Potrei avere un filone di pane, per favore? No, però abbiamo una casa giocattolo Gliela metto in un sacchetto, signore? Sì, grazie Il costo della casa è di un euro, prego Oh, mi dispiace, non ho portato i soldi Può pagare la prossima volta che viene Occipicchia, è proprio un lavoro duro Eh già Buongiorno venditore Che cosa posso comprare con mille milioni di euro, per favore? Susi, che cosa abbiamo in negozio che costa mille milioni di euro? Guardate che meravigliosa giornata di sole! Oh, no, è cominciato a piovere Ma dov'è la fantastica vista, papà? Eh, eccola una fantastica vista La signora Coniglio con il carretto dei gelati Salve, signora Coniglio Salve, papà Pig Quattro gelati, per favore Di quale gusto li desidera? Menta, arancia, fragola e mirtillo Molte grazie, signora Ecco lei Guardate che cosa ho qui I gelati Oh, e sono dei nostri colori preferiti Proprio così Il verde è per me L'arancione è per me La fragola rossa è per me E quello di George è... Buuuu Che buono Guardate, è ricomparso il sole E guardate cos'altro è comparso L'arcobaleno Peppa e George adorano l'arcobaleno L'arcobaleno compare soltanto Quando ci sono la pioggia e il sole Nello stesso momento Oh Avete visto? Ci sono tutti i nostri colori preferiti È vero C'è il rosso, l'arancione, il verde e il blu E sapete che cosa si trova alla fine dell'arcobaleno? No Si trova un tesoro Oh, possiamo andare lì e trovare il tesoro anche noi D'accordo Sembra che la fine dell'arcobaleno si trovi in cima all'altra collina Andiamoci! Oggi piove il sole e c'è L'arcobaleno è qui per me Arcobaleno Rosso, arancio, verde e giallo e per George il blu L'arcobaleno ci sorride di lassù Eccoci qua E da questa parte i miei pisellini Ma la verdura migliore è la lattughina verde Oh no, la mia lattughina verde Sai, nonnino, credo proprio che quegli uccellini se la siano mangiata Sì, pennuti Come mai il tuo spaventapasseri non ha riuscito a spaventarli? Perché i pennuti che mangiano la lattughina verde del mio orto sono troppo intelligenti per spaventarsi Che cosa blatteri, nonno Pig? I tuoi amici hanno mangiato un'altra volta tutta la verdura del mio orto Amici? Quali amici? Tom, Dick e Harrison Ma no, non si chiamano così Nonna Pig ha delle gallinelle Carine Allora, vi presento Giuditta, Sara e Vanessa, tesorucci Ciao E lui si chiama Neville Neville è una gallina maschio, vero nonna? Sì, Peppa, ma si dice galletto È proprio un cattivone Ha distrutto lui tutte le mie verdure Neville non farebbe male a una mosca Sai benissimo che se le mangiano le mosche E ha mangiato lui la mia lattughina verde Ma a voi non interessa la lattughina verde di nonno Pig? Non è vero, amorini miei? Non quando c'è del magnifico gran turco da mangiare Su, avanti, andiamo a casa Peppa, George, vi piacerebbe dare il gran turco alle mie gallinelle? Sì, sarà divertente, nonna Ecco qui, gallinelle, mangiate Avete anche una capanna per giocare? No, Peppa, quello è il pollaio Dove le galline depongono le uova Le uova? Però io non vedo nessun uovo qua dentro Adesso no, ma molto presto ce ne saranno tante È ora di andare a dormire per Peppa e George Le galline avranno già deposto le uova nel pollaio, nonna Pig Forse domani mattina, Peppa E come facciamo a sapere quando sarà mattina? Beh, ce lo dirà Neville E ora, fate la nanna Notte, nonna Buongiorno, amici miei Ciao, Peppa Edmond e Richard giocano nel recinto di sabbia Giochiamo nel recinto di sabbia Ok Perché? Che problema c'è? Come vedete ci sono dei lavori in corso E io sono il capo cantiere Ma pensi che ci vorrà molto? Beh, ci vorrà il tempo che ci vuole Né più né meno Prima scaviamo una buca Poi la riempiamo E la strada è riparata Urrà! Peppa, George È il momento di andare a casa Oh no George vorrebbe restare a giocare Tornando a casa incontreremo il signor Toro che sta lavorando Arrivederci, amici Ciao, Peppa Peppa e George sono impazienti di vedere di nuovo il signor Toro Cavatice, gu, brum Eccoci qua Il signor Toro non c'è più Evidentemente avrà finito e sarà tornato a casa Cavatice, gu, brum Oh, la tubatura dell'acqua si è rotta un'altra volta No, Peppa Questa volta si tratta di un cavo elettrico danneggiato Accipicchia E come si riparano i cavi elettrici danneggiati? Scavando una buca grossissima Evviva! A Peppa e George piace vedere il signor Toro che scava la strada A tutti piace vedere il signor Toro che scava la strada Viviamo su un pianeta Qualcuno sa dirmi come si chiama la Terra? Proprio così Bravo Sono discretamente esperto di faccende spaziali Ci sono altri sette pianeti che girano intorno al nostro Sole Qualcuno di voi sa dire come si chiamano? Mercurio? Oh, molto bravo Edmond Venere, Marte, Giove, Saturno, Nettuno e Urano Edmond sa tutto dello spazio Sono un elefante saputello Qualcuno sa di cosa sono fatti tutti questi pianeti? Sì, io, sono fatti di cartone Questi modelli sono fatti di cartone Ma i pianeti veri invece sono fatti di roccia, di ghiaccio e di gas Però la Luna è fatta di formaggio groviera No, anche la Luna è fatta di roccia E questa è una gita molto seria Quindi non voglio battute e men che meno risaltine Eccoci arrivati Siamo sulla Luna Ma questa Luna è finta, vero, signor Coniglio? È per gioco? Certo Se ci trovassimo sulla Luna vera Adesso potresti saltarmi sulla testa Qualcuno mi sa dire perché potremmo saltare così in alto se fossimo sulla Luna? Per la gravità Oh, proprio così, Edmond La gravità è la forza che ci fa stare con i piedi per terra Ed è più debole sulla Luna Così saltiamo più in alto Possiamo farvi provare l'emozione di saltare sulla Luna Con un piccolo aiuto della scienza Sono incuriosito, signor Coniglio Quale sistema usate? Delle grandi imbragature elastiche Tutti hanno indossato le imbragature antigravitazionali del signor Coniglio Rimbalzare su una finta Luna è divertentissimo Prego, dite, la Luna sorride! La Luna sorride! E qui finisce il viaggio sulla Luna Prego, l'uscita è da questa parte Ma ci sono degli alberi sulla Luna? No! E ci sono delle macchine sulla Luna? No! Porta i nipotini al parco giochi E ora, nonnino, ti spiego tutti i giochi di questo bellissimo parco Quello è lo scivolo Ci si arrampica fin lassù e si scivola fino a terra E tutti aspettano il loro turno Grazie, ma so bene come funziona uno scivolo, Peppa Ci giocavo anch'io quando ero piccolino E non è cambiato molto da allora Davvero? C'erano anche le altalene quando da piccolo venivi al parco? Certo che c'erano le altalene e c'erano anche le palestrine per arrampicarsi e le giostre Ma il mio gioco preferito era quello, lo scivolo Anche a me piace lo scivolo Tutti aspettano il loro turno per scendere dallo scivolo Cattivone di un Richard Lo sai che devi aspettare il tuo turno in fila? Richard è impaziente, non vuole aspettare il turno Oh, povero Richard Non è facile essere così piccoli, vero? Si affretta di giocare Visto che Richard è così piccolino Non dovrebbe aspettare tanto tempo in fila Io non cambierei le regole del gruppo se fossi in te, nonno Pig Che sciocchezza Sono certo che i piccini capiranno È così, no? Whee! Ma nonno, George è piccolino Eppure è rimasto in fila come tutti noi Ah, sì? Anche lui è ancora piccolino E quindi non è giusto che stia in fila ad aspettare Whee! Oh, no! Richard e George si sono impadroniti dello scivolo Nonno, quando riusciremo a giocare anche noi sullo scivolo Oh, non ti preoccupare, Peppa Vedrai che i piccolini si stancheranno presto Ah, io però ne ho mai ad aspettare Anch'io! Che ne dici di andare sull'altalena? Ma c'è Pedro Pony sull'altalena Spaghetti Deliziosi! Sono rimasti degli spaghetti Ma papà Pig Ne hai già mangiate ben tre porzioni Mangiare mi dà energia E ho bisogno di energia per la corsa di beneficenza Ma hai anche bisogno di allenarti per la corsa E se io mi allenassi a mangiare oggi e poi mi allenassi a correre domani? No, papà Tu devi allenarti per la corsa subito, da ora Avanti, papino! Inseguici! Questo è troppo facile! È facile correre giù per la collina Ma è difficile correre su per la collina Forse non avrei dovuto mangiare così tanti spaghetti È il giorno della corsa di beneficenza Madame Gazella ha una mappa per mostrare fino a dove deve correre papà Pig Se papà Pig riesce a correre fino a qui Quello è il supermercato! E fino a qui È la stazione di servizio di mio nonno E arriva fino a questo punto qui È il castello ventoso Allora avremo abbastanza soldi per riparare il tetto della scuola Lo faccio immediatamente! Pronti? Ai posti? Via! Ci sono riuscito! Adesso possiamo fare il picnic Che papà buffone! Quello è soltanto un disegno! Certo! Adesso deve correre fino al vero castello ventoso Pronto? Al posto? Via! È via! Coraggio papà Pig! Ce la puoi fare! Coraggio scuolabus! Ce la puoi fare! Lo scuolabus è finalmente arrivato al castello ventoso Adesso tutti possono godersi il picnic Dell'acqua! Datemi dell'acqua! Ma che splendida calda giornata! È un modo estremamente rilassante di raccogliere soldi Non trovate? Dell'acqua! Ho tanta sete! Papà Pig ha raggiunto il supermercato Buongiorno! Buongiorno signor asino! Per Dindirindina! Questo enorme baulè è tutto per delfine? Sì! Delfine si è portata qualche cosetta per questo soggiorno Cose che qui voi non avete! Formaggio, pane, pomodori e dell'acqua! Au revoir, delfine! Tornerà a riprenderti domani sera! Dove metto il bagaglio di delfine? In camera mia! In cima alle scale! Il punto più alto della casa! Quanto pesa! Serve per una notte sola! Oh sì! È proprio per questa ragione che ho portato un bagaglio così piccolo! Allora, delfine è qui per esercitarsi nella nostra lingua quindi noi la dobbiamo aiutare! Certo, mammina! Prima di tutto mi devo scusare io non parlo molto bene la vostra lingua Non mi sembra che parli poi così male Lei è molto gentile, monsieur Pig ma posso farle solamente una piccola domanda riguardo all'italiano? Ma è naturale! Chiedi pure, io sono un esperto! Ti ascolto, delfine! La forma passiva dei vostri verbi richieda sempre l'utilizzo dell'ausiliare? Oppure facoltativo? Si è fatto terribilmente tardi Dobbiamo preparare il letto per delfine Mammina! Mammina! Delfine può dormire nel mio stesso letto! Ci mettiamo una da un verso e una dall'altro! Ottima idea, Peppa! Peppa e delfine dormiranno insieme nello stesso letto Ora piccole, cercate di dormire Vi aspetta una giornata impegnativa perché domani delfine verrà nel tuo asilo Bellissimo! Dorme bien! Dorme bien in francese vuol dire dormite bene Io non ho per niente sonno! Allora ti canto una canzoncina per farti addormentare? Sì! Frere Jacques, frere Jacques, dorme vu! Ci sono anche cipolle, carote e tutti gli avanzi di ogni tipo di frutta e verdura Il nonno e la nonna ne saranno felici! Perché a nonno Pig e a nonna Pig piace mangiare le bucce delle verdure? No, Peppa! Sono per il giardino del nonno Aiutano le piante a crescere bene Potremmo portargliele subito dopo pranzo Oh, che bello! Mamma Pig, Peppa e George portano le bucce delle verdure a casa di nonno e nonna Pig Siamo arrivati! Evviva! Nonna Pig! Nonna Pig! Abbiamo portato un regalo specialissimo per te! Oh, ma quante bucce di verdura! Che cosa fantastica! Al mio giardino piaceranno moltissimo! Perché il tuo giardino mangia le verdure, nonno? Niente affatto, Peppa! Tutte queste bucce andranno a finire nel mio mucchio di concime organico! Oh, e che cos'è? Adesso ti faccio vedere! Eccolo qui! Ma questa è una scatola di legno! Esatto, Peppa! Ma questa è una scatola di legno molto intelligente! Metto tutte queste bucce qui in cima e dal fondo si vedrà uscire una deliziosa terra molto ricca chiamata concime organico! E come fa a farlo? È una scatola magica per caso? No, cara Peppa! Ho tanti piccoli amici che le danno una mano in questo lavoro! Dove? Sono qui dentro! Guarda! Oh, ci sono tanti vermi! Vemmi! Vemmi! I vermi trasformano frutta e verdura in concime organico! Nonno Pig! Possiamo andare a cercare altri vermi per la tua scatola di concime organico? Mi sembra un'ottima idea! Vieni, George! Mettiamoci a cercare altri vermi nella pozzanghera! Ne ho trovato uno! Vemmi! Vemmi! È un po' troppo alto, George! Sei proprio sicuro di voler scendere da lassù? Costa un euro, prego! Quanto? Un euro? Ma è un'offerta per una buona causa! Oh no! È un po' troppo alto per George! Non ti preoccupare, George! Arrivo! Ti raggiungo subito! Un altro euro, per favore! A George la paura è passata! Oh! Quanto è alto! Ho le vertigini! Quasi quasi scendo dalle scale! Ma non può! Le scale sono affollate! Si deve scendere dallo scivolo, Papa Pig! Oh! Ok! Wow! Coraggio! Venite a divertirvi! Fate centro e vincerete un gigantesco peluche! Guardate! Tu sei brava a fare centro, vero? Ma non ci serve un altro peluche gigante, Peppa! Non si preoccupi! Non vincerà, Mama Pig! Tutte le donne hanno una pessima mira! Può ripetere! Non ho sentito! In questo gioco ci vuole abilità! E quanto costa tirare una freccia? Un euro! Mamma Pig ha fatto centro! Ma è incredibile! Ecco il vostro gigantesco peluche! Evviva! Voglio un peluche gigante come quello, mammina! Ma sono troppo grossi! No, non è vero! Papa Pig e George sono sulla ruota panoramica! Tenetevi forte! Oh! Va veramente molto in alto! Oh! Sono contento che sia finita! Un euro dà diritto a cinque giri completi! Cinque giri completi! Oh no! Wow! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette! Rebecca ha contato fino a sette! Eccellente, Rebecca! Mi scusi, signora maestra! Sì, dimmi Candy! La mia mammina sa contare fino a dieci! Brava! Continuiamo! Dopo le sette ci sono l'otto, il nove e il dieci! Otto, nove, dieci! Bravi! Molto bene! È ora di ricreazione! A Rebecca Coniglio, Zoe Zebra, Susy Pecora e Peppa piace saltare! Mi piace la sabbia! Mi piace il mare! E insieme a Susy mi piace saltare! Mi piace cantare! Mi piace giocare! E insieme a Zoe mi piace saltare! Ideona, vediamo chi di noi riesce a saltare più a lungo senza fermarsi! Qui? Conto io! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci! Ha vinto Zoe! Urrà! 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 Sei qui, Pedro! Ti va di saltare un po' insieme a noi? No, grazie Peppa! Sta giocando con l'ula hop! Ula hop! Ula hop! Uno, due, tre! Ula hop! Ula hop! Uno, due, tre! Oh! Quanti giri riesci a farli fare senza fermarti? Un milione e trentatré! Bravo! Sono un bel po'! Allora, contiamoli in coro! Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto! Mi hai fatti solo otto! Sì, perché sono un po' stanco! Quelli che mancano li farò più tardi! Tu sai giocare con l'ula hop, Emily? Sì, ma ho un mio stile personale! Emily fa girare l'ula hop con la sua proboscide! Forse serve dell'altra carbonella! Proviamo a soffiarci un po' sopra! Secondo me c'è bisogno di usare degli altri fiammiferi! E adesso non ci resta che aspettare un incendio! E quanto tempo dobbiamo aspettare? Oh, potrebbe volerci chissà quanto! Io sto aspettando già da anni! Quanti incendi ha spento fino ad oggi, signora coniglio? Eh, nessuno! Neanche un solo incendio! Ma bisogna tenersi pronti! Suona il telefono delle emergenze! Ah, vuoi rispondere tu, Peppa? Probabilmente di nuovo il tuo papà! Va bene! Sì, pronto! Qui la casarma dei pompieri! Ciao, Peppa! Oh, papà! Ancora tu! Sei davvero disobbediente! Questo telefono serve soltanto per gli incendi! Puoi passarmi la signora coniglio? Per favore, fa la brava, Peppa! Il mio papà ha detto che vuole parlare con lei! Pronto, papà Pig? Questo telefono deve essere usato soltanto quando c'è un... Incendio! Oh, no! Il barbecue di papà Pig è andato a fuoco! Al fuoco! Al fuoco! Mamma è a salvo saggio! Yuh! Yuh! Tenetevi forte! Yuh! Yuh! Al fuoco! Al fuoco! Ding dong! Ding dong! Il camion dei pompieri della signora coniglio! Arriba! State indietro voi, papà! Mamma cane, apri la valvola dell'acqua! Sì, ricevuto, mamma Pig! L'incendio è spento! Evviva! Grazie del salvataggio, signora coniglio! Oh, non c'è di che! È la parte fondamentale del nostro servizio! Il servizio pompiere di noi, mamme! E adesso, dato che la signora coniglio ha gentilmente innaffiato il nostro giardino, possiamo saltare tutti su e giù nelle pozzanghere di fango! Sì! Io adoro i camion dei pompieri! Conti, Pedro Pony! In che cosa hai talento? Nei giochi di prestigio! Dunque, qui abbiamo un bicchiere d'acqua! Attenzione! Si vede attraverso! E ora, con una piccola magia segreta, farò scomparire l'acqua! Per favore, chiudite gli occhi, prego! Aprite gli occhi! L'acqua è scomparsa! Mille grazie! Emily, elefante, farà una suonata per flauto dolce! Dici, Rebecca, qual è il tuo talento? Io so fare un verso particolare! Ma funziona solamente se mi metto sulla punta dei piedi! È stata molto brava, Rebecca! Sì, ma io che cosa posso fare? Candy, tu in che cosa hai talento? Nel salto! Ma volevo anch'io saltare alla corda! Vabbè, pazienza! Tanto posso sempre cantare e ballare! Signore e signori, vi canterò una canzone! Brilla, brilla, o stella in ciel! Non importa, tanto posso sempre ballare! Susi Pecora, tu in che cosa hai talento? Io so ballare! Non è vero! Tu non sai ballare! Ai ai, ballare era l'ultimo talento di Peppa! Mi fa molto piacere che ognuno di voi abbia scelto un talento diverso da mostrare ai propri compagni! E adesso chi rimane ancora? Peppa! Io volevo saltare! Oppure cantare! O ballare! Ma hanno già fatto tutto! Si può avere talento per qualsiasi cosa, Peppa! Gli invitati si sono travestiti da pirati! Io ho ho! Solo Pedro Pony ha il costume da cowboy! Yeeha! Eccomi qui, ciurma di sfaticati! Lui è Nonno Cane, travestito da pirata! Ciao, buongiorno Nonno Cane! Chiamatemi Barba Bianca! Ciao, Barba Bianca! Siete pronti, diavolo di una marmaglia, a spiegare le vele e ad affrontare il fortunale? Perché parla in quel modo strano? Tutti i pirati parlano così! Chi di voi vuole giocare al gran gioco dei pirati dica io! Io! È un gioco pericoloso questo! No, Pedro Pony! Nonno Cane mi ha garantito personalmente che non correrete alcun rischio! State pure tranquilli! Ma sarà divertentissimo! Chi vuole giocare con me? Io! Questo è il nostro piano! Un tempo avevo un forziere d'oro che era mio di diritto, ma mi è stato vilmente sgraffignato da quel maramaldo di Capitano Hogg! Cosa? Il gergo dei pirati è difficile da capire! Capitano Hogg ha rubato il mio tesoro! Oh! Tutti sanno che Capitano Hogg è un terrificante pirata! Qualcuno di voi probabilmente lo conosce col nome di battaglia Nonno Pig! Ah! Nonno Pig! I partecipanti dovranno trovare il nascondiglio di Capitano Hogg e riportarmi il tesoro senza essere acciuffati! Urra! Sono tutti contenti all'idea di giocare ai pirati! Buongiorno Nonno Pig! Stiamo per arrivare! Caramba amico! Caramba amico! Nonno Pig e Polly il pappagallo fanno la guardia al tesoro del pirata! Avanti ciur maglia! Salite a bordo della tortuga e vento in poppa! Ma cosa dici? Non capisco! Correte alla nave! Io ho la bandiera! Peppa suona la campana! Peppa suona la campana! Nonnino posso fare io il Capitano ti prego? E va bene ma dato che sei il Capitano devi indossare questo cappello! Adesso è Peppa il capitano E tutti devono obbedire ai suoi ordini Suona la campana Gira quel timone Sì, signor capitano Peppa E ora saltate su e giù Il capitano Peppa è un po' agitato Forse è meglio che torni ad essere io il capitano Non vorrei rischiare di andare a sbattere da qualche parte Governare una barca può essere molto pericoloso Fortunatamente io sono un ottimo capitano Oh no! La barca di Nonno Pig è finita contro un isolotto Nonno, che disastro! Ci siamo incagliati! Adesso telefono a Nonna Pig Lei ci verrà in aiuto Nonno Pig ha fatto cadere il telefono in acqua Pronto? Sono Nonna Pig Chi parla? Pronto? Dobbiamo assolutamente trovare un modo per mandare un messaggio a Nonna Pig Oh! Messaggio a Nonna Pig! Polly potrebbe volare fino dalla nonna! È un'idea grandiosa Peppa E io posso insegnare a Polly che cosa dire Dalla barca Nonno Pig dice Dalla barca Nonno Pig dice Aiuto! 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 Ecco, avete visto? È stato facile facile! Nonno Pig dice È stato facile facile! Sei uno sciocco uccellaccio! Sei uno sciocco uccellaccio! Buongiorno, Polly! Come mai sei venuto qui? Dalla barca Nonno Pig dice Cosa? Che dice Nonno Pig dalla barca? Sei una sciocco uccellaccio! Oh! Sì! 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 Grazie per la visione!